Quanto ci vuole Elisa di Rivombrosa Il sogno continuo in bustina Da Prominter in edicola Guardi cosa faccio Piccola, geniale Matilda Sta dritta, eh, guarda la tv A sei anni scopre di possedere quegli strani poteri Grazie a una famiglia insensibile Io sono un genio e tu sei scema Alla perfidia della preside Io non sbaglio mai Adesso basta fare la brava bambina E per diventare grande ha solo le sue forze Matilda sei mitica, domani alle 21 su Canale 5 Vai col sapone Il sapone, hai presente? Fuori, che tocca a lui Qui? Sicuro Oggi c'è Acigene Casa Gel L'unico detergente con la garanzia di qualità della caldeggina Ace Per darti pulito, brillante e igiene sicura Che pulito! E poi tocca a chi so io Acigene Casa Pulito e igiene, sono di casa Filippo Mia mamma La cameretta La cameretta I capelli I capelli L'animale di casa L'animale di casa La merenda La merenda Con tanto latte Con tanto cacao Vista da lei e vista da lui La merenda è Kinder Delice L'equilibrio giusto tra nutrimento e gusto Per i 50 anni di Volkswagen in Italia I concessionari Volkswagen Vi regalano da 1000 a 4000 euro di vantaggi Sabato 28 e domenica 29 febbraio Festeggia dai concessionari Volkswagen Tutta la vitalità che cerchi oggi la trovi nel nuovo LC1 Vital I suoi fermenti arrivano vivi fino all'intestino Rafforzano le tue difese e restano attivi per molto tempo Così ti senti in forma dalla mattina alla sera Giorno dopo giorno LC1 Vital Lunga vitalità quotidiana Da oggi anche nei nuovi gusti vaniglia E arancia carota miele Da Nestlé Dall'amore per la tradizione Le tagliatelle emiliane barilla Per gustare tutta la passione delle vere emiliane Tagliatelle emiliane barilla Ci senti la passione Gara di torte? E torta sia Il piacere di una torta cameo Comincia prima che sia pronta Buona Questa è la nostra Sono buona di tutte e due Torte cameo Prendeteci gusto Ogni bollicina in questa bottiglia di Bex è A. Il risultato dell'ingegneria tedesca B. Più rotonda per un gusto più pieno C. Estremamente fortunata Live or exist You have the key Sì, mi dicono che è pronto il collegamento Mi sentite? Sei in onda Infostrada ha una sensazionale offerta da comunicare a tutti Per questo ha bisogno di un grande testimonial Lo stiamo cercando con tutte le nostre forze Deve far sapere a tutti che con Happy Night chiami gratis la sera dal telefono di casa Una domanda È tutto, grazie Happy Night Chiami gratis in tutta Italia Dalle 8 di sera alle 8 del mattino Chiama Infostrada al 159 Giulia, ad ogni scoperta che fa diventa più grande Ieri abbiamo scoperto l'alpinismo Oggi la pappa Nestlé La prima pappa già pronta e completa Perché scopra fin dallo svezzamento Le buone abitudini alimentari Giulia, amma Così cresce come voglio io Nel modo che piace a lei Nestlé prima infanzia Le scoperte che fanno crescere Stop ai capelli crespi Il nuovo San Silcalo e Serum Rende i tuoi ricci ben definiti Così la prossima volta San Silcalo e Serum Libera dai capelli crespi Sì, sono un salame Casa Modena però Se non hai la morbidezza che vuole la tradizione Non sei di un colore perfetto Non sei Casa Modena Casa Modena Salumi che parlano Malditesta, raffreddore, febbre Vivi in C con vitamina C E la vita ritorna effervescente Il medicinale può avere controindicazioni ed effetti collaterali Sotto i 12 anni è necessaria la prescrizione medica Leggere il foglio illustrativo Profumo di premi Acquista due prodotti Tieni lo scontrino e telefona Puoi vincere ogni giorno due aspirapolveri E partecipi all'estrazione di una mini cooper Da Amnipur Spizzero? No, novi Fondente nero novi Con oltre il 70% di pregiati cacao Voglio sfide lunghe un giorno Voglio il mondo degli eroi Voglio vivere la vita Con il gusto dei cowboy Il gusto dei cowboy scoprilo da McDonald's Solo fino a marzo I love it 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 Grazie.